sentiamo questi approcci tra due componenti della loro giusta composizione il sistema di d'azione e il sistema di ricezione come possiamo raggiungere l'equilibrio che si chiama linea di mezzo la terza e iniziamo a scoprire la nostra realtà a livello corporeo noi trovandoci a questo livello corporeo per si percepisce come un livello animalesco ma noi iniziamo a distinguere il livello umano parlante quando iniziamo a vivere in un sistema che non dipende più dal nostro corpo corpo è separato del sistema è separato che si chiama anima così si chiama la connessione fra di noi che passa attraverso il sistema generale che abbiamo costruito fra di noi in forze equilibrate di d'azione e ricezione questa connessione si chiama anima ed in questa connessione noi iniziamo a vivere iniziamo a dare importanza proprio in questa connessione questo ciò che si chiama il tuo mondo lo vedrai durante la vita tua e questo sviluppo a due tappe la prima tappa come abbiamo detto e lo sviluppo di l'olish ma quando mi unisco con gli altri capisco che così mi unisco con tutti io assicuro a te e soltanto in questa maniera quando io inizio a capire che tutto dipende dai buoni rapporti fra tutti i membri delle nazioni insomma tra tutte le persone nel mondo perché il mondo è integrale sempre di più si conclude e vediamo quanto dipendiamo l'uno dall'altro la felicità dell'uomo dipende dalla felicità di tutto il resto del mondo quindi io inizio a curarmi di loro e sono pronto a unirmi nella decina sempre di più perché soltanto in questa maniera io posso coesistere in maniera buona io e la mia famiglia questo si chiama l'olish ma ma già si uniscono con il prossimo per star bene io questo è l'olish ma poi quando man mano che avanziamo perché la luce caratteristica gente agisce sempre tutta di noi e ci fa portare a un nuovo livello quando io già non faccio più distinzione tra me e gli altri e questo sistema dove siamo connessi tutti insieme è talmente tanto ovvio nella sua integralità con la sua interconnessione quando semplicemente mi sparisce questo calcolo che io per me e diventa un calcolo generale io sento il sistema generale e io là dentro come una celluletta tra i miliardi di cellule tra le miliardi questo corpo spirituale che è connesso con un solo cervello con un cuore così noi raggiungiamo un nuovo livello dell'esistenza e ci siamo elevati dal livello animalesco a livello del nostro ego e dopo di che abbiamo unito al nostro ego la forza del bene dopo di che siamo arrivati all'equilibrio tra la forza del bene e del male a livello del l'olish ma poi ci si leva a livello di l'esistenza e sentiamo che esistiamo in un solo sistema unico spirituale e non c'è più nessuna connessione con l'esistenza materiale dove noi ci sentivamo prima esistenti nel corpo questo corpo sparisce dalle nostre percezioni e già non lo prendiamo più in considerazione ma apparteniamo a un nuovo livello dell'esistenza e poi quello che accade in avanti noi non lo sappiamo la scienza del cabalà non ci racconta quello che succede dopo è una domanda di una questione della forza superiore noi invece parliamo soltanto della realizzazione nel nostro mondo della realizzazione fisica nelle nostre forze cioè la scienza del cabalà si chiama la scienza nascosta occultata non per qualcosa di elevatissimo misterioso mistico a livello soltanto dell'immaginazione parla che la scienza nascosta è perché ci vuole far mostrare come utilizzare la forza nascosta che per ora è nascosta dalla nostra natura come tirar fuori questa forza del bene e come utilizzarla questa è una scienza molto pratica e noi dobbiamo realizzarla in questa maniera reale nel nostro mondo la questione che con che cosa è buona questa scienza è che voi potete raggiungere queste cose anche senza la scienza del cabalà ma con tanti colpi grossi moltissimi colpi a ogni passo grandi colpi finché non arriviamo a un nuovo tipo di pensiero perché ricevo questi colpi cosa ci devono insegnare questi colpi cosa dobbiamo fare per non riceverli più e che ci serve tutto ciò e in che direzione dobbiamo svilupparci che non sia come un aiuto di questi colpi cioè noi per ora in questa maniera così come facciamo domare gli animali ma quando domiamo un animale gli diamo il programma di come non ricevere il colpo invece per noi ci deve essere un programma di come muoversi correttamente in avanti quindi i colpi che noi li avremmo ricevuti se non realizzassimo la scienza del cabalà sarebbe stato dei colpi in interrotto durante la lunga storia così come scrive balasla guerre atomiche terza quarta guerra davanti a noi grandi sofferenze questo è con la condizione se non realizziamo la scienza della cabalà questo è scritto dai profeti grazie